Il Consiglio regionale approva a maggioranza la proposta di risoluzione che dà il via libera alla relazione sull'attività svolta nel 2020 dal Garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal Garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo, quello del Garante, anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia, in particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quello della tutela delle disabilità, un'azione efficace per la quale l'Aula del Consiglio regionale ha espresso un parere assolutamente favorevole, ancorché a maggioranza, con due auspici. Da una parte quello che si va da una riorganizzazione quanto più rapida della struttura di supporto del Garante e dall'altra quella che si va da una riforma della legge regionale istitutiva del Garante è in linea con i riferimenti e gli indirizzi generali che sono maturati nel contesto delle Regioni e delle province autonome con riguardo alle figure di garanzia delle Regioni. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in Commissione, anche in Aula ha votato contro la relazione delle Garante per l'infante e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il Garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto tre funzionali, di cui un dirigente, altre due figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del Garante dell'infante. Quindi manca il personale. Non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza, una relazione che sostanzialmente è molto didascalica. Di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il Garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13.000 euro all'anno e in questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile. Noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, le iniziative di carattere culturale, oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti del loro stesso futuro. In questo momento l'infanzia e anche l'adolescenza è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. Credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa, che la Regione Toscana destina la sua figura annualmente, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, a fronte di, appunto ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di un garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della Regione, tra l'altro gettando anche cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione nella Regione Toscana e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra Regione, dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Se è così stanca di fare il garante, si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista toscano che sarebbe onorato di ricoprire questo ruolo in Regione. Nominati dal Consiglio regionale i sette componenti del Consiglio direttivo del Parco regionale di Migliarino-Sarossore e Massociuccoli, l'atto è stato approvato a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Abbiamo votato contro anche in rispetto di una petizione che ritenevamo giusta e che è stata fatta da molte persone. Il Parco Migliarino-Sarossore versa una situazione veramente molto critica e molti comuni, cittadini e associazioni chiedevano che fossero fatte delle nomine di persone che avessero la necessaria esperienza e curriculum per cercare di tirarne di nuovo sulle sorti. Abbiamo visto invece di curriculum eccellenti sicuramente ma non sotto i profili requisiti dell'ambiente e delle conoscenze del settore. In particolare le due che vengono fatte dal Consiglio regionale. Due persone sicuramente eccellenti sotto molti profili ma che non sembrano avere quell'esperienza che tutti noi, compreso il Movimento 5 Stelle, vorrebbe per questo ente che continua a versare in situazioni davvero molto critiche e che probabilmente avrebbe avuto bisogno appunto di quelle competenze specifiche che la cittadinanza in primis vuole. Deve tornare ad essere un parco, questo lo diciamo ormai da anni e sosteniamo che la scorsa gestione non abbia risolto assolutamente niente. Anzi, purtroppo alcuni problemi con l'incuria si sono aggravati. Per essere un parco deve tornare a vivere, bisogna che i cittadini siano anche ovviamente invitati ad andare a visitare quei luoghi, agevolati e soprattutto va fatta promozione, vanno risolte le problematiche che ormai noi tutti conosciamo. Io arrivo dalla zona di Massarosa, abbiamo un lago che porta un nome anche importante perché è il lago di Puccini, del maestro Puccini che però ha bisogno ovviamente di trovare un equilibrio ambientale, di trovare soluzione a tutti i problemi che insistono sulle baracche, le bilance e quindi i ricoveri dei barchini. Abbiamo il tema della zona del parco Pisano dove vediamo grandissime possibilità di accesso per le famiglie, per i ragazzi, per chi studia ma che ancora vengono precluse da quest'idea ambientalista sfrenata che punta più all'abbandono che allo sviluppo del territorio. Noi pensiamo che le nomine fatte ora speriamo siano volte a dare veramente un cambio di passo al parco di Miglialino San Rossore e Massaciuccoli. Io credo che con la buona volontà, la conoscenza dei luoghi che è fondamentale, si possa tornare a far vivere un'area che è stupenda, che è splendida e che però deve essere valorizzata. Ci auspichiamo che il Presidente Gianni nomini una persona che sappia il fatto suo ma soprattutto che sappia prendere decisioni su tutte quelle problematiche che gravano sul territorio. All'unanimità il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a proseguire nelle azioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nel comparto tessile con l'obiettivo di dare continuità nei prossimi anni al piano straordinario di intervento sia per le aziende straniere che italiane operanti in Toscana. Ora siamo al momento in cui, partendo dal tragico episodio della morte di Luana D'Orazio ma senza dimenticarsi delle altre vittime purtroppo oggetto di tragedia in questi primi mesi in regione Toscana, sono oltre 13 purtroppo abbiamo voluto lanciare un segnale di rilancio di questo tema su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia cambiano le condizioni, cambiano i macchinari, cambiano le regole e quindi la regione Toscana ha l'obbligo di vigilare ma di stare a fianco anche ai lavoratori, alle imprese per consentire di avere una sempre maggiore attenzione su come si stanno i luoghi di lavoro ecco perché ho parlato di cultura del lavoro e di cultura dei lavoratori abbiamo chiesto in particolare che nel PRS entrasse il finanziamento come capitolo della legge lavoro sicuro abbiamo chiesto che ripartissero i corsi di formazione che vengono fatti nell'Astra Toscana Centro che erano stati sospesi per il Covid e abbiamo chiesto che con le commissioni addirittura si potesse arrivare a fare anche delle modifiche qualora necessarie alla legge 28 in modo da prevedere non solo le imprese straniere ma anche le imprese italiane sempre con il principio costruttivo di aiutare sia le imprese che i lavoratori a stimolare e a seguire le regole nella miglior maniera possibile un piccolo dettaglio via via che andavamo avanti nel controllo delle imprese si scopriva che c'era una tendenza all'ottemperanza e quindi a mettersi in regola e che vuol dire che lavorare sulla cultura del lavoro fa bene incontrare ragazzi soprattutto di questa età è sempre un appuntamento importante quando si parla dei valori fondanti poi della nostra Costituzione per voi un omaggio che raddoppia è bello poter ritornare a incontrarci di presenza i ragazzi sono quelli che hanno sofferto di più questa pandemia per le imprese ci sono stati ristori per i ragazzi un giorno di scuola perso non ha ristori che possano permettere di recuperare allora noi abbiamo deciso di festeggiare il 2 di giugno la festa della Repubblica consegnando in tutte le scuole della Toscana ai ragazzi che stanno per maturarsi un libro che tiene dentro la nostra Costituzione la Costituzione più bella del mondo e lo Statuto della Regione Toscana è un modo per dargli nella loro cassetta degli attrezzi uno strumento in più per iniziare a vivere una nuova vita quella dopo gli studi superiori una nuova vita da cittadini democratici del nostro paese un appuntamento importante parlare di questi argomenti ai ragazzi è sempre edificante anche perché si trasmettono dei concetti fondamentali per la vita da cittadino sono molto contenta di avere questa opportunità perché credo che sia importante trasmettere una cultura della legalità e della solidarietà che è un po' il perno della nostra Carte Costituzionale sulla quale si edifica il progetto di giustizia sociale sul quale è importante costruire il futuro ciao Grazie a tutti.